Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video in cui voglio aggiornarvi sulla situazione Icardi che sta impazzando in queste ore su tutto il web ragazzi, su tutti i giornali Vi voglio aggiornare perché proprio oggi, un'oretta fa, quindi intorno alle 10 e mezza, è uscito un articolo proprio su OneFootball E hanno appunto affermato che Icardi si è presentato da piano gentile tra i non convocati ovviamente per la trasferta di Vienna per allenarsi insieme al gruppo, ovviamente dei non convocati E ragazzi è arrivato per primo, nel senso che si è presentato l'appuntamento andando ad allenarsi prima di tutti Adesso, questo secondo me appunto è una tattica ovviamente dell'ex capitano ormai che sta cercando di rimediare in tutti i modi insomma al paratrack insomma che ha combinato Ora, dal testo dell'articolo trapela che cosa? Trapela che innanzitutto si parla della non convocazione di Icardi Cosa che ieri ovviamente era diversa insomma perché si parlava del disertamento Diciamo della diserzione più che disertamento scusate Da parte di Icardi alla partita, nel senso che è stato lui a non presentarsi Mentre adesso sta cambiando versione Che praticamente appunto si dice che lui non è stato convocato Quindi ragazzi stiamo attenti a quando critichiamo le notizie sui giornali perché neanche loro sanno effettivamente cosa è successo Cosa dice poi l'articolo? Dice che dal punto di vista societario L'Inter sembra sorvolare sulla presa di posizione di Icardi Di appunto, diciamo, di rimanere a Milano Perché ovviamente, secondo la Gazzetta dello Sport appunto Ausilio e Marotta non, diciamo, proporranno delle, diciamo, delle sanzioni Nei confronti di Icardi, di Mauro Icardi Con questo appunto, diciamo, l'articolo si conclude Quindi partiamo innanzitutto con la non convocazione Poi si parla della sua diserzione Quindi c'è molta confusione, insomma, ragazzi Anche fra i giornalisti Perché effettivamente non si sa cosa sta accadendo Allora, io dico il mio punto di vista Cerco di dare una tesi a entrambe le ipotesi Allora, nelle ipotesi in cui Icardi, una volta che gli è stata tolta la fascia di capitano Ha deciso di non presentarsi alla partita di oggi, di stasera Dico che è un gran stronzo, un gran coglione e un bambino Un bambino perché, prima di tutto, tu stai lavorando È un lavoro, quello che l'Inter ti dà, ti dà da mangiare Ti permette di avere quella casa con la piscina proprio di fronte a San Siro E quindi, se questo lo facesse un impiegato di un'azienda Che così, senza dare nessuna giustificazione Non si presenta al lavoro, cosa accade? Licenziamento in tronco e perdi il lavoro Sappiamo tutti che nel mondo del calcio, invece Una volta che tu vieni licenziato Quindi in questo caso dovesse andare via dall'Inter Subito avrebbe appunto la squadra Ecco perché questo non l'ha frenato più di tanto A comunque fare questa stronzata Però, ecco, entra in gioco l'altro meccanismo Che sei il capitano dell'Inter Eri il capitano dell'Inter E quindi questo ti ha sicuramente danneggiato l'immagine agli occhi di noi tifosi Che ovviamente adesso ci siamo rotti un po' i coglioni Ho visto anche dei video di Donate Inglese In cui ovviamente dice che ha ragione Che ha ragione L'unico problema che secondo me lui appunto ha portato avanti È il fatto che Nonostante fosse contro i Cardi In tutte quelle partite in cui Si vinceva grazie ai Cardi Lui quasi quasi era scontento E quindi questo ragazzi secondo me è stato il suo punto a sforo Io non critico, non prendo posizione in merito Però credo che questo sia una cosa da dirvi E secondo me è proprio questo in cui è sbagliato Ditemi la vostra Ora ovviamente nel caso in cui Adesso prendiamo l'altra posizione Cioè nel caso in cui I Cardi non fosse stato convocato E si presenta comunque all'elemento Sarebbe un suo punto a favore Ora bisogna capire Qual è la verità Fra le due ipotesi Ragazzi La verità sta sempre in mezzo Quindi secondo me Proprio secondo il mio punto di vista È vero che i Cardi Non è voluto andare Di sua spontanea volontà Anche perché Spalletti Non credo che Dica delle cose Senza avere appunto Un fondamento di verità In conferenza stampa Quindi secondo me ragazzi L'Inter è arrivato a un punto fermo Sui Cardi Ora questa notizia Che non prenderanno dei provvedimenti Non so quanto sia vera Spero vivamente Che però Se il matrimonio appunto Deve finire fra la società E il calciatore Di guadagnarci il più possibile ragazzi Perché ovviamente Se dovesse andare via Per un prezzo bassissimo Noi andremo a perdere Perché dovremmo acquistare Un attaccante Di spessore E preferibilmente giovane E non lo trovi Per meno di 100 milioni Ormai sappiamo il mercato com'è Quindi ragazzi Ditemi la vostra Vi ho aggiornato Quindi è un anno di sede Dell'ultima ora Ditemi come al solito Cosa ne pensate Iscrivetevi al canale E seguitemi sui social Instagram e Facebook Trovate i link In descrizione E nel commento in evidenza Adesso è veramente tutto Ciao e alla prossima